Io e voi, lo siamo e non è quello che racconto in televisione, in questi giorni abbiamo sentito ad intervista nella quale scrivevi i 40 anni effettivi, noi i 40 anni di questa comunità e le comprenze nuove parole, apriveremo Proverbo 2. Sarei sfruttati, ma ancora deve essere le persone su cui i nostri padroni e quelli che ci governano e sono dimostrati ancora più competenti, ancora più stronti e ancora più viziati con questa domanda, hanno dimostrato della sofferenza pure, non sanno fare politica e non fare programmi e alloraànhare all'inizio Grazie a tutti!